Siamo qui con Franco De Angelis di Endea. Franco, da che cosa è nata l'esigenza del progetto VP? Allora, l'esigenza del progetto VP è nata da un problema fondamentalmente, un problema che ho vissuto personalmente lavorando all'interno di una multinazionale e mi sono trovato all'interno di questa azienda a dover lavorare all'interno di un team in cui dobbiamo assumere e reclutare un numero abbastanza elevato di risorse e però il problema è che quando assumi tante persone come le formi? Come fai a formare queste risorse? Perché o le persone non hanno la disponibilità, gli esperti non sono disponibili a formarle oppure non sono in grado di farlo, non hanno magari la voglia di farlo, problema di comunicazione, quindi ho cercato di capire come trovare delle soluzioni alternative per fare la formazione a queste risorse senza esperienza. Da qua è nato il progetto VP che è nato fondamentalmente a seguito di una ricerca e a seguito anche di un'ispirazione di un film Minority Report e un video visto su TED.com di Jeff Ann in cui ho visualizzato di poter fare formazione attraverso dei simulatori in cui le persone potessero interagire, giocare e quindi immergersi nella realtà reale del lavoro che dovrebbero fare e ho scoperto il Serious Game che era qualcosa a me sconosciuta e quindi ho deciso di intraprendere queste attività e trasferire il mio background professionale quindi le conoscenze acquisite negli anni all'interno di un Serious Game per fare formazione a persone sul project management, quindi l'obiettivo del gioco del Serious Game è costruire uno stabilimento ad esempio di Coca-Cola per dare un nome e tu sei responsabile del progetto, quindi devi mettere insieme tutte le fasi e costruire questo stabilimento, quindi questo è il tuo obiettivo e da qui è nato il progetto. Certo, e questo progetto è aperto a tutti? Tutti possono provare o è necessaria una determinata formazione? Allora, innanzitutto adesso il progetto è in fase demo, quindi ho sviluppato una demo per Mac e stiamo sviluppando la piattaforma web per diciamo metterla disponibile a tutti quanti. Questo gioco chiaramente, questo simulatore è sicuramente adatto a tutti, però l'obiettivo è fare formazione quindi chi volesse apprendere competenze sul project management magari è interessato a giocare, a provare il simulatore. Non penso che sia lo strumento di gioco di massa che tutti quanti adotteranno, perché non credo che fare il project manager sia particolarmente divertente, non lo so, però non credo che sia l'obiettivo, ma è più per le persone che non hanno competenze quindi non so, un neostudente, non un neolaureato che deve entrare nel mondo del lavoro, non ha le competenze e l'azienda potrebbe utilizzare lo strumento per fare reclutamento e poi dopo fare la formazione diciamo iniziale. Come facciamo a trovarti? www.endea.biz oppure per l'email info-endea.biz o altrimenti su twitter mrgrant1973 Grazie Franco Grazie, ciao Ciao, grazie mille Basso però nei confronti di Franco Sì, ho un timbro abbastanza fastidioso qui No scusami, Endea o Endea? Endea, Endea Riparto Ho fatto un vuoto Ma è meglio, è realistico, è così, siamo persone reali, va bene, va bene Non è importante che non finisca magari la cassetta però in streaming, tu qua Ladda Wer pasta Ho! Hollo!